buongiorno ti dio allora siamo pronti per partire come va ascolta stavo pensando due cose una che se dobbiamo partire senza doccia e acqua dolce in barca sarà complicato e la cosa più importante se dobbiamo convivere per un po di giorni insieme ci serve un bagno vuoi dare sfogo alla tua creatività e inventarti qualcosa per avere un gabinetto su paloma perché altrimenti sarà veramente dura insomma a fare gli equilibristi fai qualcosa delle tue dai ci faccio anche un video ciao tiglione abbiamo bisogno di un water nautico voglio provare a farne uno lo voglio fare con le mie mani per la paloma per iniziare il progetto del water portatile ci voglio una tavoletta però la tavoletta ci vuole piccolina allora tra queste qui ecco sono queste morbide questa qui è ancora qui è morbida ed è molto più corta di quelle altre il prezzo è anche buono partiamo da qui vediamo misura troviamo i secchi giusti per assemblarli queste sono le due misure che potrebbero fare nel caso nostro cioè questa praticamente si inserisce già questo qua eccoci il laboratorio questo è quello che ho comprato per fare il water portatile water nautico sono due secchi da noccio ma visto che ho a casa qui già un altro secchio più vecchio vediamo se riesco a assemblarli con questo abbiamo trovato questa tavoletta l'ho pagata a 7 euro e 50 adesso andiamo ad aprire è una tavoletta morbida e misura un po meno delle tavolette classici la prima cosa che noi dobbiamo fare adesso è eliminare questo bordo perché ci impedisce di fare entrare il secchio e non vogliamo che il secchio interno entri tutto dentro che sopra qua si appoggi il sedile sul secchio esterno è un'invenzione del momento ho visto su internet di quelli già assistenti ho capito che è un sistema semplice molti usano il secchio normale e lo svuotano in acqua a farlo brigano invece io intendo fare un water dove si possa vedere anche un sacchetto per emergenza si possa fare proprio bisogno dentro chiudere ma impuntarne sull'umido o comunque in mezzo alla natura ma in una bucca come si fa in certe situazioni in mezzo al bosco torniamo via questo bordo e vediamo cosa succede ecco la prima parte della lavorazione è stata fatta quindi adesso abbiamo il secchio senza il bordo andiamo subito a vedere abbiamo già capito che utilizzeremo quello che avevo io o vedete si incastra giusto dentro anche col beccuccino ovviamente adesso andiamo a rifinire il tutto con un taglierino vedete meglio come funziona la parte verde è la parte che poi quando questo qua sarà assemblato sul secchio si tira su qua ci metterò un cordino ovviamente perché sia più facile e si tira fuori si toglie il sacchetto se ne so sacchetto o si svuota l'acqua se si è messa l'acqua se si è il mare diciamo con l'acqua salata ovviamente tutto in infetta ed è una cosa naturalissima ora è arrivato il momento di capire se bisogna creare una staffa per applicare questo qui dietro vediamo di capire mi rendo conto che questi ci vorrebbero il contrario per riuscire ad attaccarlo infatti vedete forse così si riesce ad arrivare sotto e lo facciamo subito quindi avvitatore togliamo via le viti superiori prendiamo e giriamo prendiamo con questa mossa ovviamente bisogna fare le cose sempre un passo alla volta perché stiamo sperimentando la paloma avrà il suo bel water nautico giriamo così togliamo con delicatezza vediamo che non perdiamo i pezzi ok tutto fisso controlliamo che siano fissi anche questi superiori quindi da così noi già ci siamo e mi è molto più facile vediamo se apriamo qua no un po' più indietro voglio che sia ben centrato quindi ci metto un spessore di qualcosa magari ecco un pezzo di legno sagomato qua nel quale io possa applicarci questo vediamo cosa trovo in officina e cosa posso inventarmi ottimo direi grazie 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 come si fa di solito con le corde sintetiche così evitiamo che si spera e questo è fatto quindi noi facciamo così questo all'interno c'è anche un scanso giusto qua che sembra fatto apposta quindi si fa così si fa così e si toglie via il secchio e si svuota o si toglie via il sacchettino che si mette dentro ai secchi se c'è bisogno la paloma aveva bisogno di un bc questa è una soluzione buona l'ho fatto con le mie mani con i pezzi di video avete visto il world in progress il bc paloma eccolo qui per voi bc paloma come funziona ovviamente morbido e confortevole perché anche leggero un bel sedilino ok quindi ci si può sedere benissimo senza problemi poi per scaricare semplicissimo perché c'è il doppio secchio prendiamo questo cordino apriamo il watt tiriamo su e ci mettiamo con un moschettone qui con un pezzo di corda e sciapiamo giù in acqua ok quindi niente di più semplice spesa complessiva attorno ai 13 14 euro diciamo pure 15 euro per esagerare in internet abbiamo trovato su amazon a 31 euro più le spese è comunque un prezzo molto basso perché di solito le stromolo 50 60 euro ovviamente saranno un po più definiti saranno però questo qui tutto sommato ci siamo è comodo è pratico se abbiamo messo una cinghia in modo che si possa spostare facilmente di qua e di là quindi andiamo a regalare alla nostra paloma un bel servizio un servizio igienico diciamo in questo caso ciao sono venuto a portarti un paio di regali paloma ti sto portando la docetta adesso te la metto su non solo ti ho fatto anche un altro piccolo regalino così chi viene qui a bordo di te potrà usufruire di un servizio igienico insomma un latimino più comodo eccomi qua tedio ho sentito paloma ed è felicissima ha detto che l'hai fatto un bel regalo nuovo sai che quelli di giorgio il mare vogliono il video anche della docetta comunque complimenti spieghiamo a chi ci segue che siamo animatori e che fare gli animatori nei villaggi turistici vuol dire dare molto con pochi mezzi e così abbiamo il nostro bagno per paloma con 15 euro quasi troppo complimenti tedio soprattutto sto pianificando la nostra rotta del nostro viaggio quindi con il bagno e la docetta sarà sicuramente diverso quindi al prossimo video e soprattutto ciao da video giorgio e il mare ciao